Il centro-destra è a pezzi e l'atteggiamento del PD rischia di minare l'alleanza per le elezioni regionali. Non risparmia Siluri il Movimento 5 Stelle. Andrea Greco, Angelo Primiani, Valerio Fontana e Fabio De Chirico hanno convocato i giornalisti per chiarire gli effetti delle sentenze della Cassazione di qualche giorno fa. Per i giudici, consiglieri regionali Antonio Tedeschi e Filoteo Di Sandro possono rientrare a Palazzo Daimmo perché la cancellazione della cosiddetta surroga non poteva avvenire a legislatura in corso. L'emendamento sull'abrogazione delle porte girevoli, il meccanismo che consentiva ai primi dei non eletti di subentrare in consiglio agli assessori nominati in giunta, venne firmato proprio dal capogruppo pentastellato oltre che dal governatore Toma. Solo l'ultimo dei tasselli che è stato necessario per demolire totalmente la coalizione di centrodestra. Negli anni abbiamo fatto sì non solo di destrutturare i partiti, cioè i primi dei non eletti che addirittura fanno causa alle persone che sono in consiglio regionale, in una royal rainbow giudiziaria. Quindi significa che siamo riusciti realmente a, permettetemi, distruggere un centrodestra che oggi è a pezzi e si presenta alle elezioni totalmente dilaniato. La surroga condiziona sia in una fase successiva alle elezioni, quindi assegnando un potere abnorme al presidente della giunta regionale, ma andava a condizionare anche in una fase pre-elettorale perché andava a condizionare la composizione delle liste. Chiarita anche la questione dei risarcimenti che spetterebbero ai consiglieri regionali da reintegrare, oltre a quello che potrebbe succedere in caso di un contenzioso tra questi ultimi e la regione molise. Se alle prossime elezioni venissero eletti potrebbero essere dichiarati ineleggibili. Non ci saranno spese di milioni e milioni di euro immediatamente a seguire dopo questa sentenza, perché la sentenza stabilisce un principio. Per esempio, naturalmente per avere accesso a quel diritto, chi può quantificare l'eventuale danno può essere solo un giudice. Per cui oggi Micone non solo non dovrà tirare fuori una lira, ma se lo dovesse fare, credo che sarebbe lui responsabile di un eventuale danno, perché è solo un giudice che può quantificare l'eventuale danno. Il Movimento 5 Stelle non ha risparmiato accusi al PD. La legge che introduceva la surroga venne approvata durante il governo guidato da Paolo Di Laura Frattura. Vittorino Facciolla era vicepresidente dell'Aggiunta, Micaela Fanelli, segretario regionale del PD. Quella norma è stata una porcata, dicono. Fu voluta dal centrosinistra a trazione Niro, aggiungono riferendosi all'assessore ed esponente dei popolari, che fa parte anche dell'attuale esecutivo Toma. In conferenza poi Andrea Greco definisce inaccettabile il comportamento di Micaela Fanelli e avverte può minare l'alleanza che stiamo costruendo. Ho trovato sinceramente assolutamente poco edificante l'uscita del capogruppo Micaela Fanelli, che è stata a mio avviso assolutamente fuori luogo e soprattutto non ha colto le ricadute politiche di quello che è accaduto. Il futuro del centrodestra molisano per il Movimento 5 Stelle è fortemente in bilico, già da domani, quando in consiglio dovrebbero rientrare Antonio Tedeschi e Filoteo Di Sandro, coordinatore di Fratelli d'Italia. A loro dire, Toma potrebbe ritirare le deleghe a Vincenzo Niro e Quintino Pallante. Dal canto loro i pentastellati potrebbero presentare una mozione di sfiducia. ...dovrà stabilire a quanto ammonta il danno eventuale, perché comunque parliamo di un danno eventuale ancora da quanto...